calignaia acqua fresca mare carmo tanto sole tanta gente splendida giornata di mare in lontananza il castello del sonnino se mi riesce ora faccio un po di zoom gran bel posto il sonnino era uno che sicuramente ci apiva e ci apiva tanto se ha fatto il castello lì posto così lo trovate lungo la costa labronica oppure andate in sardegna o in corsica un saluto la spiaggia incomincia ad essere bella piena giorno festivo acqua fresca mare pulito tanta gente tanto sole bel panorama per tutti quelli che restano al mare tutto il giorno il consiglio di mangiare poco o comunque far passare sempre almeno due ore e mezzo meglio tre tra il pasto e il bagno se no ci potete anche schiattare e poi vi rovinate la giornata un saluto bella fresca pulita il sole picchia forte ci vuole la crema almeno 20 di protezione meglio 30 o più per il resto gran bella giornata di sole e di mare l'acqua non è ammarmata come era invece l'altro anno negli stessi tempi in stesso periodo un saluto a tutti i poveri cristi che non stanno in una città di mare ciao ciao benvenuti in un altro episodio di mia calegnaia speciale fondale estate 2020 questa breve puntata faremo una rapida panoramica della piscina di tuffi e del fianco sinistro della baia di calegnaia della baia di calegnaia osservata sotto una luce settembrina in settembre il mare è calmo l'acqua è calda zero meduse il sole è caldo ma non brucia settembre è proprio una bella stagione per fluire il mare se il tempo regge questo filmato faremo una breve visita osservando rapidamente la baia di calegnaia un po nel fondale intorno alla baia di tuffi quanto negli scorci di panorama che è possibile estrarre dal mare con meno bagnante in acqua c'è meno resta nel mare e meno caos i pesci diventano più socievoli e curiosi vi gironzorleranno intorno incuriositi per vedere cosa fate come nuotate la fauna marina in settembre con meno bagnante in acqua appare più propensa a lasciarsi filmare dalla telecamera da vicino un saluto a tutti e buon divertimento filmare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.